Sant'Agostino diceva una cosa bellissima, bellissima, la speranza a due figli, il primo si chiama indignazione e il secondo si chiama coraggio e diceva l'indignazione serve a farci capire ciò che non ci piace, ciò che non riusciamo a tollerare e il coraggio serve per cambiare ciò che non ci piace, perfetto, però per fare questo dovete sapere che cosa state criticando, dovete conoscere le cose che non vi piacciono e poi dovete trovare dentro di voi, e ce l'avete, e ce l'abbiamo tutti, il coraggio per dire questa cosa qui non mi piace e la cambio.